Aveva fatto ricorso in merito ad una multa notificatagli da un dipendente del Consorzio Olimpo a Palermo, ritenendo la contravvenzione non legittima poiché non effettuata da comunali. Adesso il Tribunale monocratico ha respinto l'appello, i verbali sono validi. Fino ad ora, infatti, se da un lato la magistratura amministrativa dava ragione al Comune, confermando l'affidamento ai privati, dall'altro quella civile ha puntualmente annullato le multe. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, ha sottolineato nella sua sentenza il giudice Claudia Turco, ma anche tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, esattamente come previsto dall'articolo 140 del Codice Civile. Nei mesi scorsi il Comune di Palermo ha scatenato le proteste degli automobilisti, inviando 36.000 avvisi bonari per multe arretrate, dal valore complessivo di 28 milioni di euro. Notifica è addetta delle associazioni dei consumatori mai ricevute. La società privata ottenne l'incarico di notifica nel 2008, ma sin da subito l'amministrazione mostro dubbi riguardo la legittimità dei verbali. Adesso sembra si sia fatta finalmente luce, centinaia le istanze simili destinate alla bocciatura.